SIGLA Da quanto hai questi incubi? Ogni notte. Da tre settimane. L'evento ha i tratti caratteristici di un omicidio rituale. È lei la donna che ho visto nei miei sogni, ne sono più che sicuro. Hai sognato una cosa che stava per succedere prima che accadesse. Si chiamano sogni premonitori. Perché io? Aspetta! Non farmi del male! Non ho intenzione di farti del male! L'hai sognata anche tu, vero? Ora vieni con me. C'è qualcosa lì. Lei voleva che la trovassimo. Per questo abbiamo fatto lo stesso sogno. Sette donne ci sono. È di questo che è venuto a parlarmi? Deve dirmi quello che sa. Le Munze giocano con le parole. Gli dia quello che vogliono. È l'unica cosa che ci protegge! Allora, scappa. Non si aspetti pietà stavolta. C'è her